per chi non lo sa lì di sotterrato che poi ve lo farò vedere da vicino di sotterrato dall'erba ma questa salvaggia erba perché la natura si riprende tutto prima o poi ma si sta riprendendo tutto c'è il binario che vicinissimo perché poi c'era il binario della camera c'è il binario della parla cosenza che maglie vicinissimo alla ferrovia nuova vicinissimo perché poi c'è il binario e la vedete vicino i pali cose c'è la nuova ferrovia della pala cosenza con la vecchia storica e di sotterrata qua questa è la strada mi faccio vedere un po il tragitto un po' di sotterrata Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.